E' stato siglato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze un accordo tra Regione, Agenzia Regionale per l'Impiego, Arti ed Ente Bilaterale del Turismo Toscano, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere la ricerca di personale da assumere nel settore del turismo, sempre più trainante per l'economia toscana. Un accordo molto importante, io parlerei proprio di sinergie, perché qui si tratta di evitare magari sovrapposizioni inutili e di creare delle procedure dove ogni attore possa fare la sua parte. Noi ci sforziamo rappresentando 15.000 imprese e 45.000 lavoratori nel mondo del turismo in Toscana, cercando di offrire attraverso il nostro comparto posti di lavoro. Io credo che attraverso la Regione Toscana in questo accordo possiamo anche qualificare le nostre attività. Alla base dell'accordo c'è la volontà di integrare la ricerca di personale per le imprese del settore turistico realizzate dall'Ente Bilaterale del Turismo Toscano nell'ambito delle sue borse mercato del lavoro, rafforzando la collaborazione con i centri per l'impiego toscani specializzati nell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Il mettere in sinergia i centri per l'impiego e l'ente bilaterale ci consentirà innanzitutto di far sì che i centri per l'impiego preselezionino personale che si recherà alle borse mercato lavoro e quindi arriverà già un personale preselezionato e questo faciliterà il lavoro degli operatori così come è successo in fiera. Obiettivo l'eliminazione del mismatch cioè il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che ha già avuto un importante banco di prova nella fiera toscana del lavoro organizzata a Firenze dalla regione toscana lo scorso dicembre.